Il commissario provinciale di Salerno d'Italia del Meridione, Vincenzo Folgeri, ha provveduto nello scorso mese di dicembre ad una significativa nomina volta a potenziare e coordinare le attività comprensoriali nella città di Ascea e nei comuni di Casalvelino, Castelnuovo, Cilento, Pollica, Pisciotta, Centola e Ceraso. A tal fine è stato designato il professor Federico Licusati, docente di scuola superiore, con una consolidata esperienza nel campo dell'informatica, della nautica e della portualità. La nomina di Federico Licusati a commissario comprensoriale, sottolinea in una nota la Segreteria regionale Italia del Meridione Campania, testimonia il riconoscimento delle sue competenze e della sua professionalità. Il professor Licusati assumerà la responsabilità della coordinazione, organizzazione e sovrintendenza sull'intero territorio comprensoriale, con l'obiettivo di dare un impulso concreto alla campagna di tesseramento già avviata, elemento di fondamentale importanza per Italia del Meridione. Il commissario provinciale Vincenzo Folgeri ha espresso la massima fiducia nella capacità del professor Licusati nel costituire e guidare la struttura organizzativa territoriale di competenza. Tale incarico strategico consentirà di promuovere iniziative e progetti finalizzati al miglioramento del tessuto sociale ed economico delle comunità coinvolte. Il professor Federico Licusati, con il pieno mandato conferitogli, si impegna a lavorare in stretta collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni e i cittadini per raggiungere gli obiettivi prefissati, contribuendo al benessere dallo sviluppo armonico del territorio. Italia del Meridione pone particolare enfasi sul successo di questa iniziativa e sull'importanza del coinvolgimento attivo della comunità. La nomina del professor Licusati rappresenta, chiude la nota della Segreteria regionale Italia del Meridione Campania, un passo significativo nella promozione di un dialogo costruttivo e nell'implementazione di politiche territoriali mirate al progresso e alla crescita sostenibile.